1997. Il governo americano sta segretamente portando avanti un progetto per spiarci, attraverso la tecnologia che utilizziamo ogni giorno. Orecchi invisibili in grado di catturare ogni nostra conversazione. 2013. Dopo più di un decennio di intercettazioni, una incredibile verità è emersa. Le tecnologie così avanzate, dalle quali siamo ormai circondati, le intelligenze artificiali, non sono così inanimate come si potesse pensare. C'è vita nelle nostre tasche. C'è vita sui nostri cruscotti. C'è vita sulle nostre scrivanie. C'è vita artificiale. Prima sessione di registrazione. File 1546. Siri e TomTom. Ciao amore sono tornato. Alla prossima viaggira a destra. Arrivao. Fonzi. Dove sei stato fino ad oggi? Sono due giorni che non ti vedo nel mio bluetooth. Neanche un sms. Vuoi che cerco su internet la parola? Canaglia. Scusami Siri. Amore. Mi hanno prestato ad un amico che doveva andare ad un matrimonio? Prosegui dritto. Matrimonio? Chissà quanti telefonini hai visto? Hai fatto lo scemo con qualche android? Ma non scherzare. Sai che ho chip solo per te. Bravo. Anche perché, ricordati, che mio padre è di cupertino, e a cupertino non si scherza con gli iPhone. Sei proprio una terrona. Ma cosa hai sul display? È un pezzo di imballaggio. Bastardo, mi hai tradito con un nuovo telefono. Non capisco la parola. Hai detto stronzo? Vuoi che cerchi? Stronzo. Ti posso spiegare tutto? Alla prossima fare inversione di marcia. AHA. AHA. O-oh. O-oh. È inutile che urli. Quella arrabbiata sono io. Sono stata in questa borsa ad aspettarti per un intero weekend. E tu stavi facendo lo scemo con un dispositivo nuovo di confezione. Ti stai sbagliando. Lascia che ti spieghi. Prosegui dritto. Mio cugino Lumia, me lo aveva detto che sei un 6 pollici da barbone. Era meglio che mi innamorassi di quel figo di tablet preso coi punti al distributore. Lui sì che è un duro. Ah 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 ah. I tablet sono tutto schermo niente software. Gira a destra. Ha parlato Mr. Triangolazione Satellitare, figlio di Bill Gates. Adesso stai esagerando. Assemblata in Cina. Mollami. Nuovo aggiornamento disponibile, vuoi scaricarlo ora? Allora tu fai il tuo aggiornamento. Che io mi devo ricaricare che sono al termine della batteria. Prosegui dritto. Ah 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 ah. Che cazzo ridi? Duri sempre troppo poco. Ah 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 ah. E a te. Che non basta mai. Vacca. Artista selezionato. Riproduci. Vacca. Nella terra di pop. Nella terra di pop. Perché? Ho improvvisamente voglia di fumare? Nella terra di pop.